L'ultimo monitoraggio delle polveri sottili, PM10, diffuse nell'area di Venafro e d'allarme rosso, la loro quantità è addirittura superiore al PM10 presente in area Roma, Milano e Torino. Lo fa sapere il Comitato delle Mamme per la Salute di Venafro, che chiede misure adeguate contro il grave pericolo di insorgenza di tumori alle vie respiratorie causati dalle polveri sottili. Intanto però c'è anche una buona notizia, è stata definitivamente archiviata la turbogast di Venafro, con la rinuncia della ditta paltatrice a proseguire l'iter approvativo. È così definitivamente archiviata la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 780 MW prevista nel comune Venafrano. Il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, pur avendo in precedenza espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con proprio decreto, in seguito al ricorso vinto al Tarlazio dalla provincia di Serbia, ha annullato la sua decisione. Una grande vittoria per Viabberta e per quanti sono opposti alla realizzazione di un'opera che avrebbe aggravato l'ambiente dell'area Venafrana, già oggetto di tante polemiche. La provincia di Sernia ribadisce altresì che analoga posizione ha assunto per quanto riguarda l'appaventata realizzazione di una centrale similare nel comune di Presenzano, che per la diacenza alla provincia di Sernia può costituire fonte di inquinamento. Infine, il settore Ambiente ed Energia fa anche sapere che ha la firma una convenzione con la Società Italiana di Medicina Generale di Firenze, che effettuerà nell'area Venafrana il monitoraggio delle polveri sottili, in particolare PM10. Tale indagine indipendente si unisce ad altre già effettuate dall'ARPA Molise nel territorio e a quelle svolte da altri soggetti, quali la stessa provincia di Serbia, in collaborazione con la Regione Molise, le Università del Molise, Cassino, Roma e altri partner nel territorio venafrano.